Buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6, venerdì 16 novembre 2018, pronti a vedere le pagine dei quotidiani locali e anche le prime nazionali e anche diversi servizi realizzati ieri dal Tg6, in particolare una pagina molto ampia di cronaca, come vedremo anche nel corso di questa nostra rassegna, diversi fatti che sono stati raccontati nella giornata di ieri, alcuni di quali hanno avuto una vasta eco anche a livello nazionale. Andiamo con le prime pagine dei quotidiani locali, siamo sulle quattro edizioni del centro, questa è l'edizione di Pescara, l'apertura concorsi per 19 posti in comune, Pescara alvia le domande per partecipare alle selezioni, i primi esami a gennaio del 2019. Sotto la testata Villa Vallelonga, Mamma Orsa e due cuccioli annegano in una vasca nel parco. Poi in Regione Abruzzo agricoltura e guerra di numeri sui fondi UE. Oltre il Wi-Fi l'Aquila sarà la capitale europea della rete 5G. Poi scendiamo a centropagina, intanto la fotonotizia, carrozzelle bloccate, la strada parco non è per disabili, la denuncia degli studenti del mistico nibelisario a Pescara. Ieri in questa simulazione davanti la strada parco, lungo la strada parco per meglio dire. Poi altri richiami di cronaca, Pescara presa la banda che ha pestato i fidanzatini, poi madre denuncia e fa arrestare pedofilo online, ha manoppello, fiamme in casa, madre e figlio in fuga di notte. Poi ancora la cronaca, rifugiato, violenta anziana al mare, somolo di 20 anni, aggredisce una pensionata a Ortona, arrestato, la reazione di Salvini, il vicepremier, verme. E poi ancora in basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, a colpi di like, tutti più soli e depressi. L'uso dei social fa aumentare la depressione e la solitudine. Questa conclusione è giunto uno studio su Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall'Università della Pensilvania. Secondo questa ricerca c'è un rapporto di causa ed effetto tra il tempo che passiamo sulle piattaforme sociali e il calo del nostro benessere spirituale. Proseguiamo sempre sul centro, maledizione di Chieti Lanciano Vasto, rifugiato, violenta un'anziana, Ortona, la donna si tuffa in mare e si salva, arrestato, somolo, ventenne, Salvini, verme. E poi la fotonotizia, la BAL, protesta a Roma, 70 licenziamenti a Natale, la vertenza di San Martino sulla Marrucina. E poi altri richiami di cronaca, a Vasto, rapina in strada, calci e pugni a un infermiere. Appoggio fiorito, sempre nel chietino, bomba di guerra, 1600 residenti lasciano il paese. E a Lanciano, diabetici, prime visite sospese, manca il medico. Sempre la cronaca sotto la fotonotizia, sprangate davanti al pub. Cinque nei guai, rissacchi di scalo tra ragazzi teatini e studenti universitari, un'ascia trovata in un'auto. E ora l'edizione teramana del centro. Ecco l'apertura, casa dello studente, soldi spariti. Teramo, una legge, stanzia 3 milioni, ma i fondi non si trovano. L'Azu lancia l'allarme. E poi, questa particolare fotonotizia, i cuochi fidanzati si sfidano ai fornelli in televisione. Notaresco, nel programma di Alessandro Borghese. Eccoli qua i fidanzati, chef Luana Delgaone e Andrea Antonacci. E poi i richiami a Teramo, morto di Sabatino, ex direttore generale della Tercas. E poi a Roseto, daspo Urbani per fermare la movida molesta. Di nuovo a Teramo, sesso e cocaina per i clienti, trans a processo. Sempre la cronaca, incubo finito, dell'olio di nuovo a casa. Il marittimo Giuliese bloccato da 16 mesi in Spagna con l'accusa di contrabbando. E siamo all'edizione di L'Aquila, Vezzano Sulmona del centro. Apertura sempre dedicata alla cronaca, furti a raffica. Ecco i primi arresti all'Aquila in manette. Due albanesi dentro casa, trovata refurtiva per 20 mila euro. E poi la fotonotizia. Architetto Aquilano firma il museo che conquista la Scozia. Capo del progetto della prima sede fuori Londra del V&A. Si tratta dell'architetto Aquilano Maurizio Mucciola. E poi la sede dell'istituto a Dandì in Scozia. I richiami di cronaca. Avezzano, Elfound, ricerca, partner, i cinesi si defilano. L'Aquila, l'UGL, nessun lavoro nero. Vespa la pagherà. E poi a Ovindoli, monumento alpino, lite per il restauro. Ancora la cronaca sotto la fotonotizia. Usura, arrestate ex preside broker sul Mona. Il PM dice soldi in prestito con interessi del 240%. Concessi i domiciliari. Cambiamo testata e siamo sul messaggero Abruzzo. Ecco l'apertura stuprata in spiaggia da un somalo. Lei è una donna di Ortona di 68 anni. Ho avuto paura che mi ammazzasse, ha detto. In manette lo straniero, vent'anni in Italia da un anno sotto protezione sussidiaria. La città è sotto shock. Poi sempre per la cronaca, l'orco scoperto da una mamma ad esca minorenni sui social. Pedofilo arrestato dalla Pol Post. E poi sotto la testata del parco nazionale mamma orsa nega insieme ai due cuccioli. Voleva salvarli. Poi ancora, data di furti, l'Aquila ha trovato il bottino dei colpi nelle case albanesi in trappole. Poi lo sport con il record del numero uno del portiere del Pescara. Fiorillo, il portiere super con il primato di presenze. Mai nessuno più a lungo di lui. Arrivato a 131 partite a guardia dei pali e biancazzurri. Tutto cominciò con una chiamata mentre ero con la Juve. E poi di spalla a guardia grele il debutto del nuovo vertice di Slow Food. Un conclave di tre giorni abbinato a musica, assaggi di prodotti locali. E torniamo alla cronaca in taglio medio. Intanto con la fotonotizia. Fidanzatini aggrediti, il video che accusa tre fermi nel branco anche una donna. E poi ricordate la vicenda di Rimborsopoli. La rimborsopoli cancellata, lecite le spese di Chiodi. L'ex governatore assolto insieme a Gatti e Castiglione. Regolare anche la notte all'hotel Sole. E poi ancora usura sul Mona sotto accusa nota ex preside e un'assicuratrice. E poi a Chieti notte agitata. Mazza e ascia per la Maxirissa. E ora siamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo che apre così manicomio. Tanta Teramo nel recupero. L'ingegnere Raffaele Di Gialluca racconta il progetto che trasforma uno spazio chiuso in un luogo d'incontro. E poi sotto la testata, somano di 20 anni in manette, si spoglia in strada e violenta un'anziana. A Roseto prove in intesa sulla movida molesta. E a Giulianova torna l'idea di abbattere il mercato coperto. A centro pagina la fotonotizia. A cena con i campioni. Qui vediamo una divisa di Cristiano Ronaldo. Solidarietà, evento a Castellalto con i giocatori ex Juve. E poi una serie di richiami. Intanto qui sulla sinistra troviamo il neopresidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Di Bonaventura che giura pensando ai problemi della montagna. E poi l'ex DG Tercas, addio a Vittorio Di Sabatino, oggi i funerali. E poi Parco d'Abruzzo, tre orsi morti nella cisterna per l'acqua. Poi ancora a Valle Castellana, Cantone, il capo dell'autorità anticorruzione, manda la finanza nel cantiere delle casette SAE. Per la politica troviamo di spalla Massimo Speca, segretario in pectore provinciale del PD. Dice il PD Teramano, da ristrutturare, non da ricostruire. E i dissidenti del PD replicano scegliere Speca una burattinata di regime. Ancora, tornando alla cronaca, a processo per la morte del ciclista dipendenti della provincia Neguai per la manutenzione. Lasciamo i quotidiani locali. Ora la nostra consueta panoramica con le testate nazionali. Partiamo dalla prima di Repubblica, ecco qui Brexit, May finisce in un angolo, fuga dal governo. Cinque dimissioni, ma lei dice andrò in fondo l'accordo verso la bocciatura in Parlamento. E poi ancora questa faccia e questa espressione esultante del ministro Toninelli, ecco perché cancellato il condono fiscale, al vertice passa la linea del Movimento 5 Stelle. Senato sì al decreto Genova. E poi reportage dalla Libia, il cargo respinto dall'Italia, dai torturatori non torniamo. E poi in basso l'intervista al ministro Bussetti, più soldi all'università dalla tassa bibite, ma c'è ipotesi IRAP. Proseguiamo, siamo sulla prima del Corriere della Sera, questa è l'apertura. Ora è lite su rifiuti e giustizia. Salvini vuole l'inceneritore in campagna. Di Maio, un affare per i clan. Il Movimento 5 Stelle dice che la sanatoria sarà solo sulle somme dichiarate e spunta una tassa sulle bibite. Andiamo sotto la testata, intanto con le parole del presidente del CONI Malagò. Malagò accusa riforma e una occupazione del CONI. Una polemica in particolare con il sottosegretario Giorgetti. Poi ancora, May sotto attacco e fuga dal governo, ma sulla Brexit tira dritto scelte giuste. Scendiamo a centro pagina dopo l'alluvione, già bonificati, territori devastati. Il Veneto si è rialzato in due settimane. Poi, come abbiamo già visto, a pugno alzato in Senato, Toninelli esulta. I 5 Stelle no. Andiamo ora sulla prima della stampa, che apre così la mossa di Mattarella. La firma della manovra non è affatto scontata. La Commissione UE della flessibilità non ha aiutato a frenare i populisti. Il Quirinale prova a evitare lo strappo con l'Europa. Viola la Costituzione. E poi la Lega del futuro, Salvini lancia l'operazione Sud e sfida Di Maio. Ancora scendiamo con il decreto Genova. Toninelli, ho battuto le lobby. Ecco il perché del pugno alzato. Siamo alla fotonotizia. L'isola della Laguna, che lo Stato non riesce a vendere. Qui vediamo e leggiamo la didascalia Poveglia, Sud della Laguna di Venezia. Lo Stato vuole privatizzarla, ma non ci sono acquirenti. La prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco l'apertura. Colpo di spugna la Lega. Impunità a rimborsopoli e ai ladri di Stato. Si tenta di svuotare il peculato. Sono diversi gli esponenti del carroccio che hanno guai per le spese pazze. A Montecitorio hanno provato a salvarli. E poi in campagna battaglia sui rifiuti. Salvini fallisce sui roghi e chiede inceneritori. Di Maio no, sta ceppa la replica del vicepremier dei Cinque Stelle. E poi ancora, in taglio medio, le banche piccole potranno ignorare lo spread per legge, emendamento di governo per evitare effetti negativi sui bilanci. Come in Germania, gli istituti non quotati in borsa avranno la possibilità di congelare il valore dei titoli di Stato senza adeguarlo ai prezzi di mercato. Sconti sulle sofferenze. E poi ancora Brexit, May perde quattro ministri e forse la Camera. Andiamo sulla prima pagina di Libero. Chiese sempre più vuote credono in Facebook, meno in Dio. Frequentazione dei luoghi di culto impicchiata, meno del 30% degli italiani è praticante e va ammessa. Ecco cosa succede se il cristianesimo perde identità e la religione viene trasformata in attività sociale. E poi il fondo di Vittorio Feltri. Polemiche inutili, il condono edilizio esiste già nei fatti. Scendiamo con la fotonotizia. Intervista il criminale con molta simpatia. Saviano riabilita il boss maniero. Ma è da vivi attaccare lo scrittore per la sua vita privata e la fidanzata segreta. In basso Di Maio preferisce i rifiuti a Salvini. Matteo termovalorizzatore a Napoli. Luigi Staceppa. E poi ancora la prima pagina del manifesto che apre così sempre con il tema dei rifiuti in campagna. con questa diatriba tra Salvini e Di Maio. Rifiuti speciali nel governo e scontro al veleno. Sui rifiuti Salvini sbarca a Napoli e brucia la trincea grillina nella terra dei fuochi. Inceneritori in ogni provincia campana. Fateli o li facciamo noi. Con i no non si va da nessuna parte. Di Maio perde le staffe. Non c'entrano una ceppa. E poi sotto la testata May tira dritto ma in otto si dimettono Brexit. Il governo rischia la sfiducia. Corbyn bozza contro interessi popolari. La prima pagina del messaggero. Salvini e Di Maio lite sui rifiuti. Il fronte sud scuote il governo. Il leader leghista a Napoli. Termovalorizzatori in ogni provincia. Basta con i no. La replica 5 stelle. Non c'entrano nulla. Anzi aiutano la camorra. Sale la tensione. E poi lo sport sotto la testata. Sport e politica. Giovanni Malagò. Comitato olimpico. Quella riforma è una occupazione. Poi Nations League. Italia-Portogallo. Mancini pensa a un tridente con Immobile. Andiamo in taglio medio. Con la modifica varata dalla CEI. Non abbandonarci alla tentazione. Svolta padre nostro. Decenni per cambiarlo. Dunque cambia un passaggio della partenza. preghiera del padre nostro. Non abbandonarci alla tentazione. E poi terremoto Brexit. Fuga dalla MEI. C'è rischio sfiducia. In quattro via dall'esecutivo la Premier andrò fino in fondo. È l'unico accordo possibile con l'Europa. E poi in basso orrore a San Lorenzo. Ha ucciso Desiree. Accusa confermata per uno dei pusher. E poi ancora la prima pagina della verità. Ecco l'apertura contributivo e retributivo. Tutte le simulazioni. Quanto avrete di pensione con quota 100? Uno studio redatto da esperti. Fa giustizia del terrorismo sparso a piene mani da Boeri e compagni sul taglio degli assegni. Chi anticiperà il ritiro dal lavoro? Tirate le somme. E poi altre bufale smontate sotto la testata. I genietti di Napoli ci hanno raggirato. Non hanno vinto. E la finale non è a Boston. Poi l'untrice di Bari non è figlia di Novax. E il morbillo lo ha contratto in ospedale. E poi quello che abbiamo già visto. Il fatto che si è verificato ieri. Che trova ovviamente molto spazio sui quotidiani locali. Ma finisce anche sulla prima della verità. Somalo, gironzola nudo. Poi violenta la donna di 68 anni sulla spiaggia. Aveva ottenuto la protezione sussidiaria. La vittima, credevo che mi uccidesse. Ormai succede ogni giorno. Il fatto avvenuto ieri a Ortona. E ora la prima dell'avvenire. Non abbandonarci. Cambia il Padre Nostro e Gloria. Formule più fedeli. I CEI alvia un servizio di prevenzione della pedofilia. L'Assemblea dei Vescovi Italiani approva la nuova versione delle preghiere. E istituisce una struttura nazionale per la tutela dei minori. E poi la fotonotizia. Calano le vendite ma non ad Arabia Saudita e nazioni africane. Esportiamo ancora armi verso i paesi in guerra. La prima pagina del mattino. Rifiuti. Scontro Salvini di Maio. Il leghista. Costruire un termo valorizzatore per provincia. Siamo vicini al disastro ambientale. Il 5 Stelle non capisce niente. In campagna impianti pieni. E a gennaio tre linee ferme ad Acerra. Andiamo a chiudere con il sole 24 ore. Che apre così. Rete Team spunta clausola anti-esuberi e pesa sulle tariffe. Il riassetto delle TLC. La bozza della norma. Incentivi agli investimenti anche in base agli addetti. Governo attento alle ricadute sul lavoro ma c'è il rischio di rialzo dei prezzi. La successione a Genishin. Team spacca Elliot. Vivendi contesta l'Iter. E poi ancora salta il condono fiscale. Stop alla dichiarazione integrativa. Vertice a sorpresa. Si fa strada alla sanatoria degli omessi investimenti solo per chi ha dichiarato. E infine questo richiamo. Caos Brexit. Sterlina a picco. E qui una foto del primo ministro inglese Teresa May. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo ai locali. E siamo sul centro. Questa è pagina 2. Il futuro è qui. L'Aquila, capitale europea della rete 5G. Il presidente di ZTX, Xiaoming, illustra le potenzialità del sistema di interconnessione che manderà in pensione il Wi-Fi. Il debutto sul mercato è previsto per la fine del prossimo anno. Una rivoluzione pari, se non superiore al passaggio tra il telefono fisso e la prima rete mobile. E poi ancora in basso leggiamo. Nel 2019 partirà il monitoraggio sismico. La sperimentazione è condotta con università graziosi. Scosse rilevate in 6-7 millisecondi. Pagina 3. Agricoltura. Guerra di numeri sui fondi UE. Febbo. Soldi non spesi. Rischiamo di dover restituire 24 milioni a Bruxelles. L'assessore all'Agricoltura, Dino Pepe, replica. Non c'è alcun pericolo. E poi ancora l'indagine di Coldiretti. 8 genitori su 10 felici se i figli tornano nei campi. E ora pagina Abruzzo con la politica in evidenza. Forza Italia prepara i congressi locali. Resta il nodo regionale. La settimana prossima Meloni potrebbe vedere Berlusconi e Salvini. Ma nel centro-destra si apre l'incognita di Stefano. E oggi c'è l'incontro a Pescara sulla figura del giudista Silvio Spaventa. Ancora pagina 12. Annegano mamma orsa e due cuccioli. Sono precipitati nella stessa vasca abusiva dove morirono due plantigrati nel 2010. Allarme lanciato da un escursionista scatta l'inchiesta della procura nel territorio di Villa Vallelonga, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Di recente anche una segnalazione sulla pericolosità della struttura. L'EMPA chiede l'intervento del ministro. E ora le pagine locali, in particolare quelle di Pescara, lavoro e nuove opportunità. Via ai concorsi per 19 posti in comune. L'ente assume autisti, vigili urbani, tecnici e amministrativi stipendi fino a 1800 euro. Da lunedì il via alle iscrizioni online. Si faranno delle graduatorie valide tre anni, utilizzabili anche da altre amministrazioni pubbliche. L'ente sotto organico. E nel 2019 potrebbero andare via altri 123 dipendenti. Ora la cronaca con la vicenda dei fidanzatini aggrediti in centro. Violenza raccapricciante. Ecco chi ha pestato la coppia. Arrestati tre diciottenni, in cella il capo ai domiciliari, l'amico e la ragazza di Chieti. Denunciato anche un minorenne. I quattro ripresi da un monitor e riconosciuti in foto dal ragazzo picchiato. La polizia parla di accanimento senza spiegazione. Il giudice Colantonio aggiunge le immagini dimostrano un'assoluta indole violenta. Hanno colpito ripetutamente le due vittime con calci in faccia e alla testa. Vediamo il servizio del TG6. Individuati ed arrestati i presunti autori di una rapina con aggressione ai danni di due fidanzatini minorenni messa a segno nella notte dello scorso 21 ottobre in pieno centro a Pescara. Si tratta di tre giovani, due ragazzi ed una ragazza, nei cui confronti la polizia ha eseguito questa mattina la relativa ordinanza di custodia cautelare per rapina e lesioni aggravate. Il fatto era avvenuto in via Parini dove i due minorenni erano stati picchiati e rapinati da quattro sconosciuti. Le indagini affidate alla squadra mobile di Pescara hanno consentito di risalire all'identità di tutti e quattro gli autori. Tre sono stati arrestati poche ore fa. Tra questi tutti molto giovani e stupisce anche che non siamo riusciti a cogliere una ragione a un'aggressione avvenuta in centro e durata anche minuti con una ferocia che non è dato vedere neanche tra criminali di caratura ben diversa. E' da apprezzare anche la rapidità della risposta della Procura della Repubblica e consentitemi della Polizia Giudiziaria che a tempi brevi ha rimesso una informativa ritengo dettagliata, fatta proprio poi dall'autorità giudiziaria e confluita nelle misure disposte dal GIP oggi. E' attraverso una ricostruzione delle immagini offerte dai filmati della videosorveglianza, una collaborazione piena delle vittime e un aiuto che ci hanno dato ancora una volta i social network. Sempre a Pescara arrestato un 37enne, una madre in castra, pedofilo di internet. Pescarese raccoglie la confidenza del figlio, ha descato online e fa scattare l'inchiesta. 12 le vittime maschi e minorenni. L'uomo è accusato di aver circuito ragazzi tra i 14 e i 18 anni, inviava e chiedeva foto a sfondo sessuale. E ci sono i consigli dati dagli investigatori. I genitori, create il giusto feeling con i figli. Avanti, siamo sempre a Pescara, bus della gita rotto, il classico pronto a denunciare la ditta. Il preside D'Amico vuole chiedere un risarcimento d'anni per i ritardi e i disagi patiti da studenti e insegnanti. Poi ancora, a proposito di scuola, questo test fatto ieri sulla strada parco da parte degli alunni del Misticoni Belisario. Prof e 90 studenti in carrozzella, strada parco vietata ai disabili. In fila davanti ai pali, in bilico sulle bolle di asfalto, i ragazzi scoprono le barriere architettoniche. La preside Cocco, una lezione di vita, il progetto curato da Ferrante di carrozzine determinate. Poi presenteremo al comune un nostro progetto ecosostenibile nel quale ridisegneremo strade e quartieri a misura di disabile, ha detto il dirigente scolastico dopo il test di ieri. E poi ancora il libro, evento schirato con i miei scatti, vi racconto i disastri del mondo. Il fotoreporter pescarese oggi a Laurum con Terra Mala, il volume racconta i drammi nella terra dei fuochi. Ora le pagine di Montesilvano, scuole sicure, edilizia scolastica assegnati al comune. 3 milioni di euro saranno ripartiti per i lavori di adeguamento sismico e impiantistico tra gli istituti Troiano-Delfico, la succursale in via D'Annunzio e la Silone. Poi di spalla la polemica sfiducia a Orsini. Cigli attacca solo a canimento politico il consigliere della Lega Montesilvano. Le nostre critiche hanno infastidito chi conta sul gettone di presenza, ma ho chiesto il quadro di quelli percepiti negli ultimi due anni. A Marina di Città Sant'Angelo, ventenni sorpresi con un chilo di cocaina arrestati dai finanzieri. Si tratta di due ragazzi del pescarese, avevano la droga in auto per un valore di 50 mila euro. Poi ancora a Francavilla, auto forzate e rubate, allarme in città. A Francavilla tre colpi solo nell'ultimo fine settimana, presi di mira alla zona del cimitero. Il comune installa le telecamere. A San Giovanni Teatino, San Buceto, il tracciato interrato non si fa. L'amministrazione comunale afferma che RFI fa di colpo marcia indietro, ma il passaggio a livello non si tocca. Siamo a Manopello, incendio in casa, madre e figlio in fuga. Paura per il rogo divampato in piena notte al primo piano di una palazzina. In strada anche gli altri inquilini. Poi a Penne, Brioni, chiesto il ritorno alle 32 ore settimanali. Vediamo il servizio realizzato dalla redazione di Vestina News. Un incontro a fine mese tra l'amministratore delegato Malverdi e i sindacati dell'azienda Tessile Brioni di Penne rivelerà i programmi per il 2019, visto l'imminente scadenza di fine anno per l'accordo anti-licenziamenti ormai in vigore dal 2016. Un'intesa che ha permesso ai tanti lavoratori all'incirca 1.200, tra gli stabilimenti di Penne e Montebello, di Bertone e Civitella Casanova, in questi due anni di vedere salvo il proprio posto di lavoro, ma con una riduzione di ore da 36 a 32 e di conseguenza anche una riduzione del salario. Lo stato di crisi ancora forte sull'area Vestina, così come in tutto l'Abruzzo, per una delle aziende Tessile più importanti a livello mondiale, ha portato in questi anni a quasi 150 esuberi con molti dipendenti, quasi 260, che hanno accettato di lasciare l'azienda dietro accordi economici. A questo punto, come detto, la riunione prevista per il 30 novembre potrebbe essere l'occasione per capire le intenzioni del gruppo Kering, che nel 2012 ha rilevato il marchio Brioni, la stessa multinazionale capace negli anni passati di mettere fine alle commesse presso ditte esterne, così da mantenere impegnate le linee produttive pennesi. Ma un cauto ottimismo filtra dai sindacati, con voci che parlerebbero di un aumento delle ore per tornare alle classiche 36, ma nessuno vuole sbilanciarsi. Quindi non resta che aspettare i prossimi giorni per sapere se i 1200 lavoratori rimasti possano quantomeno avere un futuro dignitoso. Pagine di Chieti, siamo in particolare a Ortona, vent'anni, violenta, un'anziana in spiaggia, migrante somolo, credisce una pensionata, ma lei si libera e si salva in mare, credevo che mi avrebbe ucciso. E poi ancora la reazione del vicepremier Salvini, un verme, serve tolleranza zero, le reazioni del ministro dell'Interno, ora la musica è cambiata, il sindaco necessaria prevenzione. E poi ancora a San Vito Chietino, paura, ladri nella casa del presidente dell'Ecitra di Campri, al risveglio al mattino le stanze del piano terra trovate a suo quadro, rubati soldi, telefonini e playstation. Poi ancora le pagine di Teramo con il recupero dell'ex rettorato, casa dello studente, spariti 3 milioni, i fondi stanziati per legge non vengono liquidati all'Azio che rischia di perderne altri 9,5 perché non può appaltare lavori. Lanciamo un appello ai parlamentari e al territorio, bisogna avere subito le risorse, altrimenti perderemo lo stanziamento principale, dicono il presidente e il direttore. In basso di Girolamo, il sindaco di Roseto, pronto con i daspo urbani. Il sindaco contro la Movida molesta, a vista i titolari dei locali, sanzioni a chi viola le regole. E poi a Giulianova, libero il marittimo, fine dell'incubo dell'olio è a casa, dopo 16 mesi bloccato in Spagna per l'accusa di contrabbando, è potuto rientrare in Italia in attesa della sentenza. E poi a Silvi, il comune punta alla riqualificazione degli impianti sportivi, le parole del sindaco Scordella, li dobbiamo mettere a posto per poterli dare in gestione alle tante società silvarole. Poi ancora le pagine dell'Aquila con l'inchiesta di Sulmona, ex preside e broker arrestate per usura. Tonti e Valeria, i domiciliari per l'accusa concedevano soldi in prestito con interessi del 240% annui sequestrati a segni. L'imprenditrice in difficoltà aveva chiesto aiuto alle due per sfuggire a una famiglia rom. Ma loro si difendono, leggiamo in basso, è tutto un equivoco. L'avvocato Margiotta, l'insegnante vanta una lunga esperienza nello Stato, improntata alla legalità. E poi ancora, sempre per la cronaca, ma siamo nel capoluogo, 100 carabinieri in azione, furti a San Giacomo, due in manette, trovata refurtiva del valore di 20 mila euro nella loro abitazione. Uno degli albanesi catturati aveva un coltello. Poi ancora Aquilani all'estero con in particolare l'architetto Mucciola. Eccolo qui nella foto, Maurizio Mucciola. L'architetto Mucciola disegna il museo V&A e conquista la Scozia. È la prima sede del Victoria & Albert Museum fuori Londra, il capoprogetto. Spero di poter dare una mano all'Aquila. Noi chiudiamo qui la prima parte di mattino 6. Lo spazio ora alle previsioni del tempo, alla pubblicità. E poi rientriamo con le pagine di Messaggero, la città e tanti altri servizi. Di nuovo, buongiorno, seconda parte di mattino 6 con il Messaggero Abruzzo. La vicenda rimborsopoli, come vedete alle mie spalle, rimborsopoli cancellata tutte lecite le spese di chiodi e compresa la notte all'hotel Sole. L'ex governatore è assolto con Gatti e Castiglione. Ecco le motivazioni e la sentenza del GUP di Roma demolisce l'impianto accusatorio. Poi ancora leggiamo nel sommario. Carente la prova dell'utilizzo dei fondi per fini personali, pernottamento in compagnia, differenza irrisoria. E poi ancora le pagine di Pescara. Fidanzatini rapinati, così agisce il branco. Una coppia di adolescenti aggredite e derubate in via Carducci. Prima gli insulti alla ragazza, poi scatta il pestaggio. Tre arresti e tra gli accusati tutti i giovanissimi c'è una donna. All'esame dei magistrati ha anche la posizione di un minorenne coinvolto. E poi in basso, pedofilo online incastrato da una madre. Minorenni adescati sui social con la promessa di ricariche soldi. Barese arrestato dalla Pol Post, il servizio del TG6. Trentasettenne di Bari arrestato per aver adescato sulla rete dei minori. Dottoressa Narciso, come siete arrivati all'individuazione di questa persona? L'indagine inizia circa un anno fa, quando una mamma preoccupata è venuta nei nostri uffici perché aveva trovato su un applicativo del proprio figlio, in uso al proprio figlio minore, un messaggio con degli apprezzamenti abbastanza alquanto espliciti. Successivamente questa persona è stata identificata effettivamente per essere un adulto e tutta l'attività tecnica ci ha consentito di rilevare tutta un'attività di adescamento che iniziava sull'applicativo e che sfociava poi o su un altro applicativo, su Facebook o comunque su altri social network, dove appunto la ricerca era casuale perché l'unica caratteristica che cercava l'uomo era gli anni del ragazzo, doveva trattarsi di un ragazzo giovane, di un minorenne e faceva delle lusinghe per poter attirare la sua attenzione, indurlo a mandare foto, immagini sessualmente espliciti e quindi questi adescamenti ci hanno consentito poi di identificarlo e di poter ieri eseguire questa ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquila perché tutta l'attività è stata coordinata dalla Procura dell'Aquila. Gli adescamenti cominciavano online e seguivano in alcuni casi anche successivamente con rapporti che si sono verificati con alcuni minorenni, alcune volte anche a pagamento, in cambio prometteva denaro e addirittura in alcuni casi anche delle ricariche telefoniche. Quindi controllava e cercava lo stato di bisogno del ragazzino e puntava su quel suo stato di bisogno per poter poi ottenere quello che voleva. Sempre a Pescara come vediamo sul messaggero concorso per 19 posti in comune, da oggi il bando in gazzetta ufficiale, lunedì i dettagli sul sito dell'ente, domande solo tramite internet entro il 17 dicembre. Si cercano figure nel settore amministrativo, socioculturale, tra gli altri un informatico, un vigile e un geologo e due autisti. Poi ancora un chilo di cocaina nell'auto. Presi la finanza intercetta e arresta due giovani pescaresi, la droga era in un borsone, avrebbe fruttato 50 mila euro. L'azione dei Baschi Verdi è scattata l'altra notte a Marina di Città Sant'Angelo in una strada buia e chiusa al traffico. La perquisizione domiciliana ha consentito di recuperare due bilancini di precisione. E poi ancora le pagine dell'Aquila, sempre con la cronaca in evidenza. Furti a San Giacomo, due fermati nel covo, refurtiva per 20 mila euro. Prima importante risposta dei carabinieri dopo l'ondata di colpi notturni nelle case. Si tratta di albanesi fermati a piedi in zona. Uno aveva con sé un grande coltello da cucina. La coppia faceva base nel quartiere. Parte della merce è stata già riconsegnata ai legittimi proprietari. Il servizio. I carabinieri dell'Aquila hanno fermato due cittadini albanesi dopo i ripetuti furti che hanno interessato la zona di San Giacomo. Si tratta di un fermo. Non sono stati arrestati in flagranza di reato, ma domani si sarà comunque l'udienza di convalida dell'arresto. Nella notte i militari del luco investigativo, comandati dal maggiore Edoardo Comandè, assieme a quelli della compagnia, diretti dal capitano Luigi Balestre, a quelli del nucleo operativo e radiomobile, diretto dal tenente Maximiliano Papale, hanno fermato i due proprio a San Giacomo. Uno di loro, il pregiudicato di 29 anni, si aggirava con fare sospetto con un grosso coltello da cucina. Alla vista dei militari, l'uomo ha tentato in vano di occultarlo. Loro, dopo averlo fermato, hanno deciso così di procedere con la perquisizione dell'abitazione dell'uomo e all'interno della stessa sono riuscite a rinvenire oltre 20.000 euro di refurtiva proveniente dai colpi fatti dai ladri nella stessa zona. Tra gli oggetti ritrovati c'erano capi di abbigliamento, elettrodomestici, monili, denaro contante anche dollari canadesi, oltre a numerosi telefoni cellulari e televisori. Parte della refurtiva è stata riconosciuta e riconsegnata ai proprietari, in particolare a tre persone che avevano denunciato dei furti nelle ultime settimane. Il resto ha sottosequestro dai carabinieri in attesa del riconoscimento e della riconsegna ai legittimi proprietari. Oltre al pregiudicato di 29 anni, è stato fermato anche un connazionale di 34 che divideva l'appartamento con lui e che nel 2012 era stato già oggetto di una condanna per furto inflitta dal Tribunale di Massa Carrara. Il 29enne dovrà rispondere anche di porto abusivo d'armi, oggetti atti ad offendere. I controlli dei carabinieri del comando provinciale diretti dal colonnello Nazareno Sant'Antonio proseguiranno in maniera massiccia. Lo sforzo messo in campo in queste ultime settimane è stato notevole, con controlli mirati che hanno impiegato oltre 100 militari, l'uso di 43 mezzi e l'identificazione di quasi 200 persone con 191 veicoli controllati. I furti nel quartiere Aquilano hanno creato apprensione ed era necessaria una risposta immediata. I carabinieri hanno capito però sin da subito che si trattava di persone con una base logistica in zona, abili a muoversi a piedi per portare avanti la loro attività criminosa, di qui i controlli specifici. In taglio basso UGL e i vertici smentiscono Vespa, lavoro nero un falso, il vice segretario nazionale Favoccia lo statuto non prevede, assunzioni. E poi sempre nelle pagine Aquilane, metro, binari coperti con la resina lungo via della comunità europea, il Comune sperimenterà un sistema di rimozione delle rotaie mai entrate in funzione. Al momento si tratta solo di un test che potrà essere esteso, proibitivi i costi di ripristino definitivo. 120 euro al metro lineare. E ora siamo a Sulmona, usura, arrestate due insospettabili ai domiciliari. Katia Valeria, agente broker assicurativo del Viratonti, preside fino all'anno fa del Serafini di Stefano, il PM. Quello che ci ha colpito è il profilo delle indagate, persone di peso nella vita sociale della comunità. Ora le pagine di Chieti e provincia, pugni, calci e mazza ferrata. In galleria feriti due studenti, scattano cinque denunce per rissa, i carabinieri trovano anche un'ascia, due giovani tentano la fuga lungo i binari. Il titolare del pub, non siamo coinvolti. Notte turbolenta dunque allo scalo dopo un diverbio in un locale. Poi ancora di spalla, acque agitate nell'Udc, ma buracchio frena. Solo una questione amministrativa, il rapporto fra i consiglieri e il sindaco. I partiti lasciamoli stare. Poi ancora siamo al fatto orribile di Ortona, ho avuto paura di essere uccisa. Anziana aggredita, picchiata e violentata su un tratto isolato della spiaggia da un migrante ventenne somalo. Salvini twitta questo è il ringraziamento per aver ottenuto protezione dell'Italia. Verme, il giovane, è in carcere a Chieti. Per avere ragione della 68enne, il ragazzo le ha sbattuto la testa sui ciotoli di pietra. Lei è fuggita in mare. Vediamo il servizio. Dapprima si denuda per strada, poi violenta una donna sulla spiaggia. L'episodio è accaduto al confine tra San Vito Marina e località ripari di Ortona. I carabinieri hanno arrestato un somalo di 20 anni, è entrato clandestinamente un anno fa in Italia e da un mese in status di protezione sussidiaria. Erano le 11 del mattino quando il giovane è entrato nel bar Pizzeria Nardone, ha preso una birra, sembrava in stato confusionale, racconta il titolare. Poi è uscito dal locale e ha messo le mani addosso ad un'anziana che stava rientrando con le buste della spesa. Con le urla la donna ha attirato l'attenzione degli avventori che hanno allertato il 112. Incurante il somalo si è sdraiato a terra e si è masturbato. Poi si è avviato verso la spiaggia di Cintioni, a poche centinaia di metri, ma nel territorio comunale di Ortona. Qui ha aggredito un'altra donna, pensionata, intenta a prendere l'ultimo sole della stagione. Il ventenne l'ha tramortita, facendole battere la testa su dei massi, poi l'ha violentata. Nel frattempo sono giunti i carabinieri. La donna, riuscita a divincolarsi dalla presa del suo aggressore, è fuggita in acqua, mentre i militari hanno bloccato il giovane e lo hanno arrestato. Ricoverata in ambulanza all'ospedale di Lanciano, alla vittima sono state riscontrate numerose scoriazioni ed ecchimosi, oltre al trauma cranico. Il somalo è stato trasferito al carcere di Chieti. Per lui è scattata anche la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e falsa attestazione dell'identità, avendo fornito ai militari false generalità. E' un'altra testimonianza su questa vicenda, sempre sul messaggero. Mi ha chiesto una birra, l'ho visto molto confuso, parlava farfugliando. Inizia alle 11 al Barnardone, a San Vito Marina, la folle mattinata del ventenne straniero, Shayeb Saleban Nur, il ventenne somalo. Il protagonista, ovviamente, suo malgrado di questa triste e orribile vicenda. Andiamo avanti con le pagine terramane del messaggero. Ricostruzione post terremoto, la finanza a Valle Castellana, l'anticorruzione in via, le fiamme gialle, controlli in cantiere, identificati gli operai, l'indagine sul rischio di infiltrazioni del crimine organizzato con i subappalti. L'ANAC, guidata da Raffaele Cantone, tiene un faro acceso anche in Abruzzo dopo le anomalie in Umbria. E poi, di spalla, sesso e coca con la trans, le testimonianze shock. Si è aperto il processo alla brasiliana, accusata di spaccio di sostanze stupefacenti. E poi ancora, a Giulianova, gastronomia, nuovo corso all'università. L'Ateneo Terramano vuole formare figure in grado di gestire la valorizzazione, promozione e comunicazione dei prodotti. Il rettore Mastro Cola, prospettiva per le scuole alberghiere, come gli istituti di Poppa di Teramo e Crocetti di Giulianova. Approfondimenti in ambito scientifico, storico e culturale, marketing e comunicazione delle produzioni. E poi, scuolabus di Silvi, riassunti gli autisti, furono licenziati a giugno dalla Società di Servizi e Trasporti SRL di Francavilla al Mare, ex affidataria del servizio. Andiamo ora sulla città. Siamo a pagina 5. Con l'ex manicomio in evidenza, c'è tanta Teramo nel progetto di recupero. L'ingegnere Raffaele Di Gianluca racconta l'idea di trasformare uno spazio chiuso in un luogo di incontro e si ricostituisce la rete urbana storica della città, dove il percorso dal Teatro Romano attraverso Piazza Orsini e Vienico La Palma introdurrà attraverso la gradinata di Porta Vezola la nuova grande piazza della Corte delle Recluse. Siamo stati stimolati dalla possibilità di tornare a confrontarci con una porzione del nostro territorio, dice l'ingegnere Di Gianluca. Andiamo ora a pagina 6. Con la politica scelta del segretario, burattinata di regime. Verticelli e Sciamanna denunciano la violazione di tutte le regole del partito per la scelta di Speca. I due candidati con cavallari scrivono una lettera al veleno ai segretari provinciale e regionale e ai garanti del PD. In assenza dei tesserati ci si inventa oggi un modo improvviso di chiudere il commissariamento. Si rischia di negare ai tesserati anche la possibilità di esprimersi sul segretario cittadino. Poi ancora il segretario in pectore rilascia questa lunga intervista alla città e dice PD da ristrutturare, non ricostruire. Sento la responsabilità ma il mio nome deve essere garanzia di terza età per il bene di tutto il partito. Ritengo, dice ancora Speca, si possa divergere ma sempre nel rispetto delle regole e della pluralità delle idee. Proseguiamo, pagina 8, addio a Vittorio Emanuele Di Sabatino l'ex direttore generale della Tercas si è spento giovedì notte all'età di 84 anni, fu anche il primo storico segretario della fondazione fino al 2005, oggi i funerali in cattedrale. Andiamo ora a pagina 9, di Buonaventura giura pensando alla montagna il presidente della provincia si insedia, corsa contro il tempo per i prati di Tivo il piano neve, il consigliere annuncia di lasciare la casa dei comuni e la costituzione di un gruppo misto, il consigliere è Mario Nunez. Poi ancora siamo a pagina 10, troppi pazienti cadono in ospedale, al via la campagna informativa per riconoscere i degenti a rischio e per aiutarli. Vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6. L'ASL di Teramo, in controtendenza nazionale, annuncia di aver dimezzato dal 2014 ad oggi le richieste di risarcimento per eventi avversi e inattesi che spesso avvengono ai pazienti all'interno delle strutture sanitarie. Dalle 202 richieste del 2014 si è passati alle 128 del 2018, mentre in Italia si continua a registrare un aumento annuo del 3%. Uno tra gli eventi maggiormente ricorrenti è quello della caduta in ospedale che può comportare conseguenze gravissime, soprattutto se si tratta di persone fragili o anziane. Un risultato eccellente è quello dell'ASL di Teramo, raggiunto grazie anche ad una campagna di prevenzione e sensibilizzazione. Una campagna di prevenzione per pazienti a rischio cadute, ma perché in ospedale si cade? Assolutamente sì, è l'evento avverso più frequente di ogni presidio ospedaliero. Noi abbiamo, dentro la nostra azienda, abbiamo la fortuna di aver messo in piedi un'unità operativa di gestione del rischio che opera ormai da 8 anni, che ha portato avanti tante campagne di prevenzione, tante campagne di abbattimento della rischiosità. pensi che nella nostra azienda dal 2014 al 2018 le richieste di risarcimento per malpractic in sanità si sono dimezzate del 50%. Due le forme di comunicazione visiva per questa campagna di prevenzione per pazienti a rischio di caduta, ideata dall'ASL di Teramo. La prima è una vignetta realizzata dal disegnatore terramano Ivan Di Marcello, l'altra un braccialetto giallo da far indossare ai più fragili. Quando entra il paziente in ospedale, in qualsiasi reparto, c'è un infermiere che identifica l'alto rischio caduta. A questo punto l'infermiere fornisce un braccialetto giallo dove c'è la scritta asl.teramo.it che identifica, rende consapevole il paziente. Gli diamo anche un fogliettino di istruzioni dove sono scritte quello che bisogna fare per prevenire che la persona cada. Siamo a pagina 12 sempre sulla città, cena solidale con i campioni del calcio organizzati in collaborazione con la Juventus con maglie e palloni autografati da Ronaldo e Di Bala. Il 30 novembre a Villa Pompizzi di Castellalto ci saranno Moreno Torricelli, Stefano Tacconi, Fabrizio Miccoli, Marchi Giuliano, Cersei Cosmi, Moris Carrozzieri, Giuseppe Giannini e la madrina della serata, Ida Jespica. Poi ancora andiamo avanti, siamo a pagina 14, torniamo alla cronaca, 3 a processo per il ciclista morto Mario Uriani morì dopo lo schianto contro un camion ad Ancarano a giudizio due dipendenti e un ex dipendente della provincia per la mancata manutenzione stradale. Poi ancora Movida Rosetana, accordo tra amministratori e gestori dei locali, il sindaco ha incontrato gli esercenti per arginare gli episodi di vandalismo, 10 giorni di tempo per rispettare l'ordinanza, nei prossimi giorni sarà avviata la procedura di gara per arrivare all'installazione della videosorveglianza, rischio d'aspo, se i commercianti riusciranno a mettere fine alla mala Movida saranno evitati i tanto temuti d'aspo. E ora le pagine dello sport, intanto sulla città con le parole del difensore Terramano Fiordaliso che dice a volte ci manca la reazione, il difensore Biancorosso sono un destro naturale ma la scorsa stagione l'ho giocata a sinistra, il giovane scuola Torino è certo, fermano al Binoleff due casi diversi, dobbiamo tenere lo stesso ritmo durante i 90 minuti, ultimi allenamenti in vista della trasferta di domenica. Rapidamente con le testate nazionali vediamo le prime pagine di Gazzetta Corriere Tutto Sport, qui siamo sulla Gazzetta con l'intervista al presidente del Milan Scaroni che appunto rilascia queste dichiarazioni, preferisco andare tre volte nell'Europa delle big che vincere lo scudetto, un debole per Suso, nessun socio di minoranza. Sotto la testata riforma Coni, Malagò un'occupazione, Giorgetti avanti sereni. Poi il Corriere dello Sport che apre così Inter no limits, ha il sesto pubblico d'Europa, i milioni di Suning e Marotta in arrivo, rilanciato il club a giugno, l'uscita dalle strettoie del fair play finanziario. Ora gli obiettivi del giovane Zhang sono accrescere il peso internazionale e spodestare la Juve. Sotto la testata Di Bala compra Pogba, qui siamo a suggestioni di calcio mercato, e poi governo e Malagò, sono colpi proibiti, la battaglia dello sport. E ora tutto sport, con questa apertura divisa in due, voglio la Juve, sarebbero le parole di Asensio, il giovane campione del Real Madrid. E poi ancora segretissimo, ecco l'Inter di Marotta, con una foto del talento del Brescia Tonali. E poi sotto la testata CR7 Giorgina, sia a Torino, sempre più insistenti le voci sul futuro matrimonio in una chiesa cittadina. E torniamo sul centro, andiamo sulle pagine dello sport, l'usato sicuro in difesa, così il Pescara punta alla A, Campagnaro del Grosso e Balsano vivono una seconda giovinezza, l'argentino ha già accumulato più minuti rispetto alla stagione scorsa, gli altri due quasi. Poi in basso le parole di Gaston Brugman, il capitano, è l'anno più sereno da quando sono qui. Pilon ci trasmette tranquillità contro l'Ascoli, dovremo cancellare il K.O. di Palermo. Per la Serie C, Teramo la difesa a Balbetta, Fior Daliso, usiamo la testa. E poi ancora Serie D, con la sorpresissima Notaresco, l'intervista di Luigi Di Marzio ha il tecnico Mirko Cudini, corsa e sudore, vi racconto la favola del Notaresco, il tecnico svela i segreti dei Rosso e Blu, la promozione, salviamoci, non smettiamo di sognare, Gian Paolo e Ventura, i miei maestri, vorrei allenare in A. E poi in vista del big match tra Pineto e Cesena, di domenica il Mariani Pavone, Pineto, botteghini chiusi per la gara col Cesena. Ecco, un primo piano del presidente del Pineto, Silvio Brocco, e chiudiamo con il messaggero, con le pagine di sport, Fiorillo, che è record numero uno, più di tutti il 28enne genovese, vuole allungare il primato del portiere con più presenza in biancazzurro, già quota 131, quella chiamata nel 2014 di Pavone, mentre ero in ritiro con la Juve. E poi per il calcio a 5, Acqua e Sapone, primo successo con Crudim, e resta però difficile l'avanzamento nella Coppa dei Campioni del calcio a 5. E in basso, Fiordaliso, diavolo, tiene a bada la testa, non dobbiamo abbatterci dopo aver preso gol, dobbiamo reagire, dice il difensore Scuola Torino. E poi la Serie D, le reazioni dopo il turno infrasettimanale, Notaresco non scherza, con il grande carattere, dopo l'ultima vittoria tutti dovranno fare i conti con i terramani, la mentalità di Cudini e Compani è ormai quella di squadra di primo livello. E poi ancora Avezzano, ora serve maggiore equilibrio, domenica trasferta a Iesi, Giulianova a Campobasso, non ci saranno rivoluzioni, ci sarà però qualche accorgimento tecnico rispetto all'ultima brutta prestazione. In basso continua l'emergenza per la Vastese, a Montegiorgio senza tre squalificati, in realtà c'è un altro turno casalingo per la Vastese contro il Montegiorgio, e poi Pineto si lecca le ferite del derby e attende la corazzata Cesena. Mattino 6 invece termina qui, vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Mattino 6 invece torna domani alle ore 8, grazie in regia a Loris Bennato e Maurizio D'Agui. Grazie a voi per la cortese, attenzione, buona giornata. Grazie a voi per la cortese, attenzione, buona giornata. Grazie a voi per la cortese, attenzione, buona giornata.